Uomini e donne, puntata di oggi, Marcello e Armando ai ferri corti Uomini e donne, puntata di oggi, Marcello interrompe la frequentazione con Jessica e decide di lasciare il programma. Ma si ferma temporaneamente per chiarire con Armando. Roberta è molto in difficoltà. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne, si è parlato a lungo di Marcello che ha preso la decisione di lasciare il programma. È stato protagonista anche Armando, che ha voluto riportare una segnalazione sul conto del Cavaliere. Si è parlato poi anche di Roberta. Ecco che cosa è successo nella puntata di oggi. Uomini e donne, puntata di oggi, Marcello lascia la trasmissione. La puntata si apre con Marcello e Jessica che si siedono al centro dello studio. A differenza di quanto sembrasse in precedenza, tra loro non è scoccata la scintilla e quindi i due annunciano di avere intenzione di chiudere la frequentazione. A prendere la parola è Jessica, che dice che lei non va bene per un uomo come Marcello. Allo stesso tempo, è valido anche il contrario. La dama infatti stava cercando un uomo deciso e sicuro ed in questo caso non l'ha incontrato. Punto Marcello dice che lui non ha mai vantato le sue qualità di uomo e finito. Il cavaliere, poi, sostiene di vederla diversamente quando gli vengono rimproverate delle mancanze. O delle insicurezze o quando gli viene detto che ha paura di intraprendere nuove relazioni. Marcello spiega che semplicemente a volte non scatta con le persone, poi si commuove e dice che non si vergogna di questo lato del suo carattere, perché non è segno di debolezza. Tina interviene dicendo che è evidente che Marcello non è interessato alle donne in generale perché ha paura dell'amore, probabilmente per via delle sue esperienze passate. Entrano poi per lui tre nuove dame. Mentre una di loro, Daniela, si sta presentando, interviene Armando. Per dire che non capisce cosa vedano da casa visto che Marcello è un uomo che non fa che piangere. Gianni dice che tutti si chiedono la stessa cosa quando le dame vanno per incarnato, ma lui ribatte che sono mesi che non arriva nessuna dama. Punto Marcello si alza in piedi e dichiara di non voler far rimanere nessuna dama, perché non intende rimanere neppure lui. È caduto in provocazioni in cui un uomo della sua età non dovrebbe cadere e quindi lascia la trasmissione. Uomini e donne, puntata di oggi, Roberta bacia Luca e Samuele. Tutti restano sorpressi per l'annuncio di Marcello, ma poi interviene Armando per aggiungere un'altra cosa su Marcello. Infatti ha una fotografia compromettente sul suo conto che gli è arrivata attraverso una segnalazione. Marcello resta sorpreso, dice che è sicuro che non ci sia niente di strano e per questo motivo si ferma temporaneamente in trasmissione per capire cosa deve mostrargli Armando. Dopo aver chiarito la questione, però, lascerà ugualmente uomini e donne. Arriva il momento di Roberta che si siede al centro dello studio. Entra prima Luca, che si dimostra davvero entusiasta per l'esterno affatta. Roberta ha ammesso che lo vedrebbe bene nella sua quotidianità, mentre Luca ha ammesso di stare. Benissimo con lei e le ha mostrato delle foto importanti per lei. I due poi si sono baciati. Successivamente però Luca scopre che Roberta ha baciato anche Samuele. Il corteggiatore si altera e dice che in questo modo ha sminuito tutto. Luca, infatti, sostiene che se lui fosse interessato ad una ragazza e dicesse delle cose importanti a quest'ultima, non farebbe poi lo stesso con un'altra persona. Roberta capisce i dubbi del corteggiatore e dice che non avrebbe mai immaginato di provare un interesse così forte per entrambi. Luca è molto preoccupato, ma in ogni caso si continua ad andare avanti. Finisce così la puntata di oggi. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettate un ritorno di Marcello e credete che ci ripenserà oppure lascerà davvero il programma? A voi i commenti.